Oggi è il 10 giugno, la giornata della Marina Militare. Per celebrarla il Museo Tecnico Navale ha rievocato l'impresa di Premuda, offrendo a tutti i visitatori un percorso all'interno delle sale con una guida d'eccezione, il contramiraglio Leonardo Merlini. 10 giugno 1918, impresa di Premuda, allorquando i MAS 15 e il MAS 21, capitanati dal comandante Rizzo e con i due comandanti Gori e Aonzo, affondarono durante un pattugliamento a largo di Premuda la corazzata Santistevan Santo Stefano della Marina Austro-Ungarica e di fatto questa azione pose fine alla guerra navale in Adriatico, quindi alla grande guerra sul mare da parte italiana. Anche perché dopo questa azione gli austro-ungarici non tentarono più alcuna sorta di azione navale contro l'Italia e contro l'Intesa. Ma non solo il museo è stato protagonista di questa giornata così particolare. Tanti spezzini questa mattina sono potuti salire a bordo di nave grecale e nave margottini. La nave Carlo Margottini è una fregata antisommergibile della Marina Militare italiana. È una nave relativamente nuova, infatti è stata varata nel 2014 ed è una nave che è specializzata nell'andare a fare sorveglianza e controllo di quello che è l'aspetto del mondo sotto la superficie, quindi di quello che adesso è il dominio subacqueo, un dominio che sta acquistando sempre maggiore importanza, soprattutto per la salvaguardia delle infrastrutture critiche nazionali e delle risorse naturali. La nave ha una capacità comunque a 360 gradi di difesa e sorveglianza, ma è specializzata appunto nella sorveglianza sotto la superficie che viene fatta attraverso i principali sensori che sono un sonar a scafo e un sonar, quindi un altro sensore a profondità variabile che viene filato a mare. La nave ha tutta una serie di caratteristiche poi che le permettono di essere completamente autosufficienti in mare. La nave infatti ha un equipaggio di 170 persone ed è capace di mantenere il suo equipaggio per tutta la durata delle operazioni. Una giornata che è un'occasione per portare anche tutta la famiglia a partire dai più piccoli, è una festa? Senz'altro è una grandissima festa della Marina, è stata un piacerevole questa visita qua, soprattutto per il bambino che è molto interessato e anche per noi che magari vediamo esattamente come si sviluppa la nave, le attività, tutta la parte di difesa che il paese ha. Il legame tra Spezia e la Marina è indissolubile? Beh, diciamo che Spezia è andata con la Marina, la Marina ha dato molto a Spezia, penso che Spezia oggi senza la Marina non possa svilupparsi continuamente.